ciao ragazzi siamo con questo nuovo video su sempre free to buy siamo qui siamo qui per come dire provare nifle su pc siamo su pc infatti allora qui proviamo a tot mi stupi molto lo sciamano quindi prenderemo un po chi ha più vita in resistenza ok dai prendiamo lo sciamano che sembra interessante l'obiettivo di questa review da playstation e pc e farvi sapere alla fine su quale è consegneabile giocare ora forse qui ci sarà qualche fps mancante che c'è anche sistema di registrazione però vediamo un po ok siamo qui vedete ma abbastanza fluido io direi di andare a sinistra questa volta allora c'è dell'input lag devo ammettere spazio a spazio sostituisce la x della playstation vediamo un po entriamo qua dai a un poco se sembra molto meno burrascoso della tot molto meno claustrofobico possiamo parlare ed ecco che mi fa visita un caro un caro ospita è raro vedere faccio nuove alla fine del nulla fammi ti dare un'occhiata eroe di niflame a non essere così sorpreso molte cose venticandone più di quante ne posso imparare ricordandone molte atti fai un favore a questa vecchia signo trova per me un pezzo di pane mi rimane a pensare ho la storia di questo luogo ed anche la mia questo sembra è crashato è crashato ragazzi o cazzo che cosa è successo è crashato no no ok allora sembrava interessante andiamo a viaggiare un po vabbè qua dobbiamo sederci per recuperare un po di vita allora usciamo è che chiaramente sono molto più corti su da pc effettivamente cerchiamo questo un pezzo di pane dai no ora vorrei solo cercare non è che ho del pane andiamo nelle priogioni numero 18 ecco qua c'è il caricamento invece nelle priogioni allora siamo entrati alla misura è molto più dinamica spazio due funghi ragno vabbè io direi di uscire che qua non troveremo niente oh mamma che cazzo sono sti cosi ma si mi rompo il culo ok molto ridicolo allora abbiamo preso due parti di scheletro questa è stata molto più interessante dell'altra volta oh no 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 è ottimizzato però molto in modo diverso entriamo qua che qua stiamo trovando una roba veramente interessante allora ecco la prima volta noi stai sta molto più fluido al caricamento a me si queste zone noto sia molto più fluido tutto che al fine dietro su delle texture no e niente ad animato oh 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 che merda no 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 è troppo è troppo no no è troppo è troppo che so quante ne erano wow questa peccano proprio mi cerca mi cerca crea che possiamo creare qua niente effettivamente niente ho questo pezzo di pane c'è da spostare su un'altra locazione e dove foresta del lupo guercio allora qui ci potremmo salutare per poi esplorare forse non so fatemi sapere il vostro risponso in un altro video quindi ragazzi alla prossima ciao